Ti ritieni una persona afferrata sui tormentoni? Perché stiamo arrivando a un momento del quiz. Guarda, potrei stupirti. Allora io ti metterò alla prova, cara Noemi, perché visto che qua siamo un po' nella tormentone edition, voglio farti un piccolo quiz. Io ti citerò alcuni tormentoni del passato. Vai. E tu dovrai dirmi una tra queste cose, tra il nome dell'artista, l'anno, oppure se vuoi puoi canticchiarmene un pezzettino. Sei pronta? Ci sono pezzi un po' più datati e pezzi un po' più recenti. Oddio, ce la farò mai. Dai, allora, sei diventata nera. Sei diventata nera, 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 sei diventata nera come il carbone. Chiaramente non dedicato a noi due. Beh no, no, no. Questa era Vianello, sarà stata un'estate del 66. Guarda, qua dice lo smarcellos ferial. Ah, davvero? Poi, attenzione, stasera mi butto. Ah, bellissimo. Stasera mi butto, stasera mi butto, mi butto con te. E faccio di tutto, e faccio di tutto. Beh, figo, lui era, aspetta. Vediamo, vediamo, vai. È inglese, no, beh. Rocky. Rocky, 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 Roberts. Sì, brava, 67. Ah, beh, grandi. Gli anni 60 hanno tirato fuori dei pezzi, dei pezzi, dei pezzi, tipo anche quell'altra bellissima. Quando sei qui con me. Oppure è abbronzatissima. Anni 60 anche quella. Secondo me sì. Quello forse è il tormentone estivo per eccellenza. Pazzesco. Cioè noi se non la sentiamo 20 volte ogni estate questa non stiamo bene. No, ma quella cosa figa di questa roba qua che veniva arrangiata anche da Morricone, capito? Se tu ti vai a leggere le produzioni di questi pezzi sono... Domi pazzeschi. Pazzeschi, sì. Ed è per questo che ce li portiamo dietro ancora oggi. Il tormentone è un suo valore, ragazzi. Assolutamente. Non facciamo delle... Ma non cercare di sviare, torniamo... Andiamo sulle hit più recenti. Come non citare Vamos a bailar. E sta vita nuova. Vamos a bailar. Dai, dai, dai. Mamma, siamo nel 2000, mamma ragazzi. Oppure, oppure tre parole. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa rumore. No, che non fa parlare. Parlare. È l'amore che ti vuole prendere o lasciare. Valeria Rossi, 2001. Bellissimo. Ammazza. Sì, sì, sì. Tanta roba. E poi l'intramontabile Mambo No. 5. Sì. A little bit of America by my side. A little bit of me, that's what I need. Tutte le sai. A little bit of tea, that's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me a man. Mitico Liu Vega 99. Un applauso, le sapevi tutte. No, ma in realtà lo sai che io ho imparato molto dalle vocalist. Secondo me le vocalist degli anni 90 avevano delle voci pazzesche. Pazzesche. 90, 2000. Zucchero a un certo punto aveva fatto un tour pazzesco con queste due vocalist di colore che erano una cosa impressionante loro due.